Shani! Polly! Laila! Che cosa ci fate qui? Stiamo cercando il tuo razzo. Non volevo barare col mio progetto. L'ho rimpicciolito per trasportarlo più facilmente. Sì! È stata la prova a farsi un'idea sbagliata! Sul serio? Non volevi presentare qualcosa di miniaturizzato? No, solo delle piantine con i colori dell'arcobaleno. Sono saltata alla conclusione senza tutti i dati. Scientificamente parlando ho commesso un errore. Ti chiedo scusa, Polly. Scusi accettate, Shani. Non vorrei interrompere questo momento di amicizia, ma se il razzo va nel compattatore, il carburante nel serbatoio farà... Badaboom! Prendiamolo! Griselle! Saltiamo i convenevoli e datemi subito il medaglione! Mangi questi avanzi! No! No! Così avete deciso di giocare sporco, eh? Tappatevi questo tacco di martedì! Oggi che è venerdì! Il razzo! L'ho preso! L'arma più micidiale! Vecchi calzini sudati che arrivano dallo sfogliatoio maschile! Datemi il medaglione o vi riempio di calzini puzzolenti! No, no! Non sono solo vecchi, putridi e letali, ma anche spaiati! Questo è un vero e proprio incubo! Potere mini-palli! Ben, seguile! Ci sto provando, Didi! Sì! Dai, che scarpe vuoi abbinarci! Sì! Il salto doppio è il più difficile, chiunque nella squadra di Devin lo sa fare! E tu sei l'unica del nostro gruppo abbastanza brava da competere con loro! Ci siamo! È il momento della verità! Anche se non sei riuscita a fare il salto, non significa che in gara non farai scintille! Aspetta! Vacci piano con le scintille, ho rischi di bruciare la maglia o i pantaloni e io ci ho messo un sacco di tempo a crearli! In ogni caso, forse Amal è in grado di fare quel salto! Amal! Bello! Il berretto non si mette così! Capito? Va meglio ora? Nah! Sullo skate devono esserci i lupi, non le papere! Scusa, ma a me piacciono! Lo sai che hanno tre palpebre che riescono a vedere a colori? Io sono Pierce e adoro le paperette! Ah, che pena! Ehi, visto che ti piacciono tanto, facciamoci un selfie! Forse tuo fratello non voleva che venissi qui per proteggerti da quel prepotente! No, è impossibile! Pierce che vuole proteggere me! Pronti! Pronti! Partenza! Pura adrenalina! Gira stretto in quella curva! Grazie, nonna Coach! Tieni, ti porti! Wuhuuu! Bravissima! Che salto! Le Pocket sono tornate ufficialmente in pista! E adesso? Dopo questo rettilineo c'è un'ampia curva! Ce la puoi fare! Ora ascoltami bene, Gwen! Perché questo è un ordine! Assicurati che Polly sia in prima posizione quando arrivi a metà gara! Qualcosa la colpirà, ma lei non riuscirà a capire che cosa! Ricevuta? Ricevuto che? Vabbè, lo considero come un sì! Via, spostati l'umacone! Non devi darle retta, ignorala! Questa è la tua gara, Polly! Guadagniamo terreno! No, 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 no! Non è questo che voglio! Nonna, reggi, ti porti! Levanti da lì, ti sta arrivando addosso! Usa il medaglione, Polly! Hai ragione! Potere Mini Polly! Potere Mega Polly! Ecco dov'è, riconoscerei il tuo stile ovunque! Oh, ciao! Tu devi essere la piccola nuova assistente di Blair! Blair! Va tutto bene? A te sembra che vada tutto bene! Scusami, hai litigato con uno dei tuoi amici o qualcuno ha rovinato la tua bellissima festa? Bella? Forse per chi mi gira attorno! Sono tutti qui perché vogliono che indossi i loro vestiti o che collabori ai loro progetti o per mangiare le mie ciambelline! Si comportano come se mi conoscessero, ma nessuno interessa chi sono davvero! A me interessa! Come ti posso aiutare? Qual è il tuo segreto? Il mio segreto? Sì! Ho guardato le tue foto! Hai la vita migliore che si possa desiderare! Sei sempre sorridente e ti diverti con le amiche! Ah, è così, in effetti! Vorrei essere felice come te! Come fai? In realtà è la mia migliore amica Polly che ha un segreto! Giure, voglio dire, il segreto della felicità! Che cosa la rende così allegra? Beh, soprattutto il fatto di poter aiutare gli altri, ad esempio facendo una colletta alimentare! Da cui io mi sono completamente defilata! Ah, aiutare gli altri! Allora il suo segreto non c'entra con le bevande salutari! Otterrei tanti cuori se insegnassi alla gente come fare i selfie! No, Blair! Polly non pensa mai a quanto ci può guadagnare in popolarità con le sue azioni! Fa semplicemente tutto quello che ritiene che sia giusto! Ho capito, ma che cosa farebbe se fosse al mio posto? Qualsiasi cosa per rendere la colletta alimentare un grande successo! E per riuscirci abbiamo bisogno dell'aiuto di una star! Sei uno splendore, maestosa macchina ai miei immagini! Oh, non sei se... Savi! Maramocchie! Come osate arrivare alle spalle del sindaco? È Griselle! Codice cittadino! Fate un altro passo e sono pronta a lanciare la bolla su Littleton! La... la bolla? Esattamente! Così l'intera città verrà sigillata in modo impenetrabile! Che cosa? D'accordo! Non andremo da nessuna parte, ma lei pose quel telecomando! Ehm... no! Littleton diventerà tutta mia! Salve cittadini! Stiamo provando un sistema di emergenza a bolla per la vostra sicurezza! Non c'è nulla di cui allarmarsi! È un test per la vostra salvaguardia! E tra poco sarà completato! Non c'è altro! Ciao mamma! Ci vediamo dopo il ballo! Che cosa sta succedendo in questa dimensione spazio-tempo? Non è affatto un test! È una cosa reale, ma devo tenere la gente calma finché non la rimpicciolisco! Potere mini-polli! Mossa scontata! Gwen! Fase 2! Sì capo! Che odore è questo? Non lo so, ma di colpo mi sento terribilmente assonnata! Sfruzza ancora l'estratto saporifero di lavanda! Benvenuti a bordo del freno del sonno! Sfruzza ancora l'estratto saporifero di lavanda!